Sì, vorrei cominciare intanto spiegando perché ho scelto questo argomento, perché io ho una particolare sensibilità a cercare un evento e un momento nel quale si scontrano, diciamo, temperie e modalità culturali, politiche, civili, ma direi modalità di guardare al mondo in modo diverso. E il 1890 lo è non soltanto in Italia e non soltanto appunto nel mondo della cultura delle donne, che senza dubbio con il 1890 vede un passaggio, come dire, in larga misura in tanti paesi d'Europa dal femminismo egualitario a un femminismo pratico, da una esaltazione, come dire, di... Emancipazioniste a femministe. Ci sono veramente tutta una serie di nodi che in quell'anno si addensano e che hanno però a che fare con un cambiamento culturale più vasto. E credo che sia importante, almeno per l'Italia certamente lo è, ma forse l'Italia è un po' in ritardo, ma non c'è dubbio che in quella fase, e lo vedremo attraverso le cosiddette iniziative dell'esposizione Beatrice, Emancipazioniste almeno per l'Italia questo vuol dire l'entrata in crisi di tutta una serie di tendenze positiviste, materialiste, realiste. Gli attacchi al realismo e al verismo e ai romanzi francesi che li esaltano sono continui, molto forti, e invece l'emergere di fermenti spiritualisti, idealisti, che si svilupperanno negli anni successivi e che hanno nelle donne, nella cultura delle donne e in quell'evento specifico di cui vorrei parlare, proprio, come dire, quasi un momento catalizzatore. Il momento in cui esplodono, si vedono, vengono alla luce, vengono alla luce le fratture generazionali molto forti, che proprio intorno alla questione anche di come fare letteratura, come fare cultura, qual è il rapporto con la tradizione, hanno un enorme rilievo, un'enorme importanza. Ecco, è a partire di questo, l'ho voluto dire, perché di per sé probabilmente questa esposizione, Beatrice, è qualcosa che non è molto nota, non è molto nota in Italia e in rapporto a ciò che diceva prima Gabriella Romani, vorrei dire che in Italia stiamo passando una fase di crisi negli studi sull'Ottocento, dopo la grande fluorescenza dei primi anni 2000, che si è venuta attenuando, e che vede in molte università italiane mancare totalmente uno studio, almeno dal punto di vista degli studi storici, forse questo è meno vero dal punto di vista letterario, ma di persone che lavorino, studino e scrivano sull'Ottocento. Allora, che cosa intanto si condensa in questa parola, espressione, esposizione Beatrice? Il mondo, credetemi, perché nel nome dell'esposizione Beatrice, in realtà, diciamo, vengono avanti due diverse, due diversi nuclei di iniziativa. La prima, un volume di scritti in versi e in prose di donne italiane in onore di Beatrice Portinari. Perché? Perché il 9 giugno 1290 muore Beatrice, questa è la data, diciamo, che conosciamo e che viene celebrata, e quindi è il sesto centenario della morte di Beatrice Portinari. A dire il vero, di per sé, la morte di Beatrice Portinari poteva anche non essere un punto così rilevante, però dobbiamo tener conto dell'enorme importanza che gli studi, il culto, il vero e proprio culto di Dante ha in questa fase e della rilevanza che ha nel 1889. Vengono fondati due associazioni nel nome di Dante, che è il padre della patria, della lingua, della cultura, ma soprattutto è il padre della nazione italiana, ecco, che attraverso questi elementi linguistici e culturali di riferimento è l'Italia, ma è l'Italia anche perché Dante è anche il Guelfo contro la Chiesa, contro il potere temporale della Chiesa. È il Guelfo che attacca il potere temporale e la volontà, diciamo, di uscire dal mondo semplicemente della fede, dei pontefici, dei cardinali e così via. Ed è questo un tratto che sarà molto importante per il discorso che andiamo a fare sull'esposizione Beatrice. Ma c'è un altro elemento importante ed è che a partire dal recupero di alcuni codici inglesi trasferiti a Firenze nel 1884, dove c'è il commento alla Divina Commedia di Pietro di Dante, la questione della realtà o del simbolismo o della pura astrazione di Beatrice diventa un oggetto di dibattito quasi quotidiano. Io ho contato la bellezza di 110 testi su Beatrice negli anni 80, cioè più esattamente dall'83 al 91. Quindi vuol dire che intorno a Beatrice è vera, era una donna, ma che cosa è stato quest'amore? Si sviluppa un lunghissimo dibattito che in qualche modo coinvolge e crea triti sia all'interno della cosiddetta scuola storica letteraria e sia naturalmente tra i cultori della scuola storica e gli altri. Mi pare che sia nel 1887 o forse nell'88 esce un importante articolo di Alessandro Dancona proprio fondato su queste nuove acquisizioni e ritorna di nuovo il dibattito e ritornano di nuovo le differenze. C'è anche un altro aspetto ancora di cui vale la pena di tener conto e cioè che proprio fra il 1888, l'89 e il 90 si creano tensioni nuove tra Stato e Chiesa in Italia perché c'è l'avvenuta di Crispi, perché Crispi in qualche modo dopo un primo tentativo di riaprire il discorso con Leone XIII di fatto sviluppa una politica che è fortemente anticlericale. Il 1889 è l'anno dell'inaugurazione della statua di Giordano Bruno in Campo di Sio e poi c'è il Codice Civile e poi c'è la legge sulle opere pie. Insomma ci sono tutta una serie di iniziative che tendono a rompere, non solo, c'è stata, c'è da parte italiana proprio per ragione intorno a Crispi si forma un blocco fortemente filotriplicista che sottolinea la centralità della Germania e quindi si creano anche fortissime tensioni con la Francia. Nel 1889 si muovono gli eserciti italiani per andare a bloccare il confine occidentale contro la Francia. Quindi contro la Francia bulangista, agitata dal bulangismo per tutto l'88 e l'inizio dell'89, le relazioni sono difficilissime, tanto che l'Italia è uno dei paesi che alla grande esposizione di Parigi dell'89 non manda una adesione ufficiale. Allora, è questo panorama, scusate, forse vi sembra un eccesso, ma vedrete che è proprio, come dire, tutti questi elementi sono fortemente abitati dal modo in cui viene concepita, svolta, realizzata all'esposizione Beatrice. Allora, il primo dato fondamentale è che proprio un gruppo di donne che sono fortemente legate al cattolicesimo liberale, al cattolicesimo conciliatorista, che ritengono fondamentale che i cattolici possano tornare a votare liberamente e completamente, che partecipano di alcuni tentativi di formare anche aggregazioni, riviste e forse addirittura partiti politici, fanno partire nel 1889, all'inizio dell'89, un primo progetto. In nome delle donne italiane proponiamo come loro modello Beatrice, Beatrice ispiratrice, quindi non il valore della donna in sé, ma in quanto ispiratrice, ispiratrice di grandi geni maschili, ma anche capace di indicare una via di virtù terrena e celeste, di essere un modello di amore non sensuale, non materialista, non decadente per le donne italiane. E questo lancio del manifesto nei primi mesi del 1889 proprio per questa forte carica diciamo legata a una idealità, a un idealismo di persone che sono partecipi, le prime, le promotrici, sono proprio della generazione risorgimentale, sono due donne che sono nate alla fine degli anni 30 e inizio anni 40. Quindi voglio dire, di per sé sono persone, io sono più vecchia, però insomma, anziane, che hanno vissuto la loro stagione come dire, con forme di neoguerfismo, anche se non politico, ripeto, ma insomma hanno in mente un'adesione a una filosofia spiritualista che è molto forte, che è molto forte per tutto l'Ottocento in Italia, che non viene mai sovrastata completamente dal positivismo. Questo è molto importante perché le prime persone che aderiscono sono per l'appunto persone di un mondo inquieto di cattolicesimo e che però vedono anche entrare in circolo e aderire un'altra corrente abbastanza interessante, cioè quelle donne che aderiscono, letterate, insegnanti, poetesse, pubbliciste, che aderiscono a una forma di neomazzinianesimo spiritualista che sottolinea i valori sempre della idealità. E quindi l'idealità che si concretizza certo in Beatrice ma che ha una forza e una presenza nel risorgimento, una radice nel risorgimento italiano. Le donne italiane hanno partecipato attivamente perché hanno saputo ispirarsi a grandi ideali, a grandi ideali non solo individuali, anzi non individuali, ma collettivi. Da questo punto di vista come dire, la presenza di alcuni giovani è abbastanza interessante e dentro e accanto a queste vecchie a queste vecchie promotrici dà proprio il segno di una sopravvivenza di quella corrente neomazziniana appunto di tipo però molto legata a forme di religiosità laica per intendersi. Questo è un primo tratto e direi che i primi mesi primavera, estate, primi mesi d'autunno dell'89 vedono marciare con difficoltà ma andare avanti questo progetto. Nell'estate del 1889 però succede qualcosa. Alla grande esposizione di Parigi si tengono a luglio due congressi. Uno sui diritti, quello di Maria de Resm e di Richer, ma se ne tiene anche un altro fortemente voluto da Jules Simon sulle opere e le attività delle donne. A questo congresso più moderato indubbiamente ma che è veramente all'origine del cosiddetto femminismo pratico che si svilupperà poi in Europa nel corso dei decenni successivi, a questo congresso delle opere e delle attività femminili partecipa un signore che è un signore abbastanza strano trampalato direi proprio che si chiama Angelo de Gubernatis che insegna sanscrito all'Università di Firenze ma il sanscrito non è che proprio lo sappia che è un indologo più in generale che è un appassionato cultore di forme molto moderne direi di strumenti mediatici. È un grande organizzatore di dizionari biografici nazionali e internazionali di donne è uno che cerca di come dire di sviluppare intorno a nuovi saperi una curiosità di massa per quello che poteva essere la massa a quel tempo. A questo convegno partecipa rimane molto ammirato così come gli piace moltissimo la mostra che è proprio dei lavori pratici di arte e manuali che accompagna questa iniziativa e che è presente lì nei grandi spazi del campo di Marte torna a Firenze e pensa che forse questa iniziativa beatrice si potrebbe un po' allargare si potrebbe fare qualcosa di analogo a quello che è stato fatto in Francia si potrebbe cioè fare un'esposizione dei lavori manuali e intellettuali delle donne italiane è intorno a questo progetto che si sviluppa tra agosto e settembre del 1889 che Angelo De Gubernati spera di poter aggregare come dire entusiasmi è in cerca di fama Angelo De Gubernati di fortuna è un personaggio per questo dicevo anche molto curioso insomma è il era sposato con la nipote mi pare di Bakunin insomma è un personaggio che però è però un personaggio d'ordine intendiamoci naturalmente anche laico non clericale cioè non molto legato ma perché d'ordine amato anche dalle forze politiche che fino all'autunno del 1889 da sempre guidano Firenze che è una delle città più clericali di tutta l'Italia questa continuità che viene fino agli anni 70 del 900 è però interrotta per un anno e mezzo da una giunta Guicciardini che viene eletta proprio nell'autunno dell'89 che Guicciardini è un massone sostituisce il sindaco Torriciani tutti nobili naturalmente e diventa marginale una figura che è cruciale per la cultura fiorentina di tutta la seconda metà dell'Ottocento che va cercato in vano di combattere e di allontanare Pasquale Villari cioè Augusto Conti filosofo spiritualista professore all'Università di Firenze autorevolissimo assessore alla cultura del comune questi quando sentono parlare di Beatrice di una esposizione in nome di Beatrice accolgono molto volentieri e promettono fondi aiuti e così via il cambio di giunta il cambio di giunta è decisivo perché appena arriva Guicciardini tutto questo scompare cancellato l'aiuto cancellati i fondi non solo ma nel frattempo quell'iniziativa del volume per Beatrice comincia a ottenere proprio in rapporto al fatto che l'iniziativa si sta dilatando sta cominciando a ottenere sempre maggiori difficoltà cominciano ad esserci i primi rifiuti si comincia a guardare con sospetto ad una troppo grande iniziativa in nome di Beatrice assunta come personaggio da usare da utilizzare contro tutto ciò che è moderno tutto ciò che va in senso di superamento delle tradizioni risorgimentali o neorisorgimentali che in qualche modo si contrappone la donna nuova la donna nervosa la donna scattosa tanto amata dalle nuove leve dalle giovani scrittrici con tutti i loro psicologismi della disperazione dell'esasperazione dei toni contro appunto invece gli scritti diciamo di tipo romanzo storico sociale per intendersi che in pittura come in letteratura hanno visto molte giovani donne letterate cimentarsi avere larga fortuna cominciano le difficoltà cominciano difficoltà che ripeto sono molto legate a questo peggioramento diciamo dei rapporti stato-chiesa che sono legate alla fine della possibilità di avere fondi e aiuti istituzionali e che esplodono però dopo una fase di difficoltà complessive esplodono tra il febbraio fine febbraio e l'inizio di marzo in una lacerazione che sarà tragica per l'iniziativa e che ha a che vedere con il rifiuto su una rivista importante dell'epoca pubblicato su una rivista un periodico importante per queste neo-avanguardie per così dire cioè il Don Quixote di una letteranza giovane e molto come dire molto protessa in avanti Febea la quale scrive essendo stata richiesta da da Gubernatis di partecipare con una conferenza a questa esposizione Beatrice risponde non soltanto dicendo di no ma risponde pubblicamente irridendo all'iniziativa e dicendo che era una vergogna che si celebrasse Beatrice che aveva fatto l'occhiolino a Dante e non la povera Gemma Donati che in fondo aveva aiutato con la quotidianità il marito facendo così e facendo entrare in causa nell'articolino che pubblica su Don Quixote anche il povero marito di Beatrice chissà come ci sarà rimasto insomma una storia di corna ecco detto proprio in maniera brutale ma è questo che succede pensate che Febea fa un gesto anch'esta di grande intelligenza per promuovere se stessa manda il suo articolo a Giosuè Carducci il quale Giosuè Carducci risponde aderendo pienamente a questo e dicendo che in pratica Beatrice era un appellativo di puro nome trasformato da Dante in in un simbolo teologico e istigando a lezione e poi anche apprezzando le piazzate goliardiche degli studenti contro Beatrice Gemma Donati il marito che avvengono nei primi giorni di marzo quando ci sono appunto le feste goliardiche a Bologna tutta Bologna nelle riviste e così via prende posizione Panzacchi che è sodale di Giosuè Carducci nella sua rivista come dire continua riprende questi questo tipo di attacchi che vengono ripubblicati anche su Don Quixote voi capite che succede un patatrack enorme tra marzo e aprile tutte quelle povere donne che avevano dato un assenso a partecipare alla iniziativa del soprattutto all'iniziativa di Angelo De Gubernatis lasciano cadere sono l'ho trovato tutte alla nazionale appunto i carteggi sono molto interessanti da questo punto di vista perché persone che avevano accettato come la Matilde Serao per dirne una e che aveva detto ma senti anche Bruno Sperani le Sperazze bisogna sentire Nera tutte avevano la Caterina c'è tutta una serie di persone che hanno accettato e che scrivono sdagnate che non se la sentono più alcune mandano a dire perché sono stanca perché io non so parlare in pubblico eccetera ma c'è anche chi dice tondo tondo che non se la sente per parlare in un'iniziativa che ha questi tratti queste caratteristiche il buon The Governance si trova con pochissime persone è costretto a rivedere tutti i suoi progetti e ripeto anche a pagare di suo a pagare di suo perché insisto su questo perché questa esposizione è una cosa enorme e gli è venuta come crescendo fra le mani e ha affittato un grande teatro il Politeama a Firenze pensando di fare un'esposizione che ci sarà in effetti di lavori manuali antichi artigianali industriali quindi con macchine macchine tessili macchine meccaniche di farlo con una galleria di arti di quadri statue busti di oreficeria di libri tutti i libri esposti delle scrittrici più importanti del tempo con grandi iniziative con grandi iniziative cori gare musicali protagoniste donne donne che dovevano competere fra di loro suonando l'arpa suonando la chitarra suonando i piano porti con danze sempre in concorsi quindi un programma enorme enorme e con 24 conferenze 24 conferenze che si sarebbero dovute tenere dal primo di maggio al 9 di giugno le conferenze si tennero ma non furono più come come De Gubernati si aveva previsto sui lavori delle donne quindi come dire scandite secondo quella che era l'esposizione ma sono delle conferenze su cui trova qualcuno che gliele fa perché questo è il punto fondamentale in queste conferenze vedono diminuire nettamente le persone nostre e aumentare giovani insegnanti donne che scrivono su giornali locali signore colte che coltivano gli studi appunto su Dante oppure sulle Sante oppure sul Trecento e così via quindi diventano un'altra cosa rispetto a ciò che si era pensato ma non c'è soltanto questo c'è il fatto che la manifestazione che si apre e si apre il primo di maggio del 1890 primo maggio è la prima volta in cui si celebra il primo maggio in Europa e anche in Italia e tra l'altro voglio dire lo si celebra si cerca e questa data a Firenze conta perché è l'inizio della crisi di quella giunta a cui facevo riferimento prima comincia in una giornata di pioggia tremenda il Politeama è assediato da un certo numero di persone ma è buio è tutto scuro non solo ma dai lucernari picchia la pioggia le persone non riescono a vedere nulla queste vetrine sono zeppe di oggetti non classificati non si è riusciti a fare in tempo a mettere in piedi e a esporre la gran parte del materiale inviato da singole o da scuole c'è una situazione di caos e si cominciano a prendere le ironie come dire si moltiplicano su questo personaggio che vuol far tutto con non avendo nulla in mano ed è lui stesso del resto a ricordare nella sua autobiografia Fibre che lui e la figlia andavano sul fare dell'alba al Poliziaama a cercare di mettere a posto qualcosa e tornavano a casa più di mezzanotte perché non avevano trovato modo di avere qualcosa ma per il momento qualcosa si riesce a fare i primi 15 giorni il pubblico è poco la stagione pessima vedere non ci si vede c'è un gran caos dentro però un po' di persone vengono all'iniziativa il 16 di maggio è una data importante perché Angelo De Guvernati si è riuscito a ottenere l'assenso della regina Margherita a venire a Firenze all'inaugurazione di un grande concerto tenuto da una grande musicista e compositrice francese Auguste Colmes che aveva fatto l'inno del 1889 in memoria della rivoluzione francese e che aveva composto appositamente per l'esposizione Beatrice una una cantata sulla pace sulla pace fra le due sorelle latine che quindi comincia una storia di lungo periodo sulle sorelle latine a questa a questo con diciamo è il Politeama il luogo che ospita e c'è un'orchestra di oltre 100 strumenti la serata va benissimo in sé perché c'è tantissime ci sono tantissime persone Augusta Colmes è chiamata in varie case di Patrizzi Fiorentini c'è un problema la regina non ci va e non manda neanche un biglietto e Crispi scriverà un bigliettino proprio per evitare l'incidente diplomatico privato al musicista dicendo che ha saputo che il suo spettacolo è andato da allora da quel momento in cui appare chiaro e viene denunciato poi con risate sui giornali questo scacco ulteriore di De Gubernatis beh da allora la esposizione non riesce più a decollare non solo non decolla ma tramonta anzitempo varie iniziative devono essere cancellate e ad altre non c'è quasi nessuno non ci vanno neanche le persone le donne che avevano per esempio quello delle danzatrici e quello delle musiciste e uno di quello delle musiciste non si riesce a farlo perché non ci vanno le persone che avevano che dovevano esibirsi quindi una situazione assolutamente drammatica l'esposizione venne chiusa anzitempo l'esito è che De Gubernatis ci rimette soldi deve vendere una villa ci rimette quadri libri antichi manoscritti oggetti d'arte e così via e è costretto effettivamente investendo vari ministri della pubblica istruzione a trasferirsi da professore all'istituto di studi superiore di Firenze a Roma perché ovviamente a Firenze non ci può stare più questo è quello che si si ha ma pensate che alla fine quando il 16 di giugno si fa l'iniziativa finale in Palazzo Vecchio il sindaco non ci va non ci va nessuno della giunta non ci va il prefetto insomma è una debacle politica molto forte quella che si ha e a me sembra importante diciamo sottolineare questo aspetto proprio perché si colloca come vedete nel crinale ma anche nella tensione di due epoche di una che non è ancora tramontata e che cerca di modificarsi di accogliere anche alcuni aspetti del nascente modernismo per esempio cattolico o di alcune nuove tendenze diciamo appunto del mondo democratico e che però insomma vede dall'altra una pressione molto forte della nuova generazione della nuova generazione che cerca di rompere con le forme del realismo con le forme del risorgimento e così via di un risorgimento perlomeno inteso in senso appunto risorgimentale come bontà dolcezza cura diciamo dei patrioti e così via vengo al volume però che mi sembra importante negli ultimi credo pochi minuti che ho e che è importante perché il volume viene pubblicato e viene anche premiato vengono premiate delle cose orride il primo premio il grande premio va a Ida Baccini la quale dopo aver scritto su Cordelia dei pezzi di fuoco su questa povera Gemma Donati che viene così maltrattata bistrattata e che non viene mai considerata come basilare per il poema dantesco però amica molto amica di Angelo De Gubernatis come dire vedendo nella come scrive più volte in Cordelia nella esposizione una cosa diversa rispetto al volume delle cattoliche per così dire Ida Baccini parlerà della maestra dicendo che le maestre devono non si devono sposare queste maestre si vogliono sposare non si capisce perché loro devono essere come delle monache laiche e devono quindi affidarsi totalmente al loro compito un compito in cui non c'è bisogno di sapere il granché basta avere affetto basta avere una capacità di ascolto e di cura dei bambini insomma una posizione assolutamente non più che conservatrice a questo punto nel 90 la reazionaria Ida Baccini cambierà perché nei primi anni del 900 sarà una cosa assai diversa da questa è stata interpretata troppo a blocco diciamo però nel 1890 ciò che viene premiato è premiato dal presidente della giuria chi è il presidente della giuria? è Augusto Conti è il filosofo spiritualista tuttofare della Firenze del secondo 800 noi si parla sempre di Pasquale Villari ma il povero Pasquale Villari doveva per far qualcosa entrare nelle pieghe di Augusto Conti allora a questo punto quello è il grande premio e l'altro premio riguarda le donne del 300 e l'altro le sante ecco e questo è il quadro ma non è vero che sono tutte così invece le conferenze e il volume è bellissimo secondo me di grande interesse non perché siano belli singoli pezzi ma perché ci mostra quanti fili in quel momento stanno vivendo dentro il mondo femminile italiano nella cultura femminile italiana ma anche nel modo di delineare la figura della donna il ruolo della donna voglio dire accanto a questo discorso di Ida Baccini certo non viene premiata ma c'è discorso il pezzo molto bello secondo me sia volevo citarne almeno questi due di una torinese che si chiama Maria Bobba e che era stata tra l'altro la donna che aveva che aveva fatto lezione alla Lombroso alla figlia della Lombroso di Lombroso e che aveva fondato a Torino una scuola specifica diciamo per le donne e che parla degli studi delle donne ed è un inno un inno straordinario alla importanza di far studiare le donne di far amare lo studio alle donne come quello che può aiutarle a irrobustire il sé perché la donna non è per altri è prima di tutto e deve imparare ad essere in sé e per sé e gli studi arricchiranno e dice insieme questa interiorità e questa intellettualità e solo così potrà anche avere la capacità la forza l'intelligenza la flessibilità per occuparsi e per sapersi muovere nel mondo è un è un testo assolutamente straordinario e un altro che va nella stessa direzione è un testo di Emilia Mariani una repubblicana che stava appena cominciando a passare al socialismo e che esprime questa forza diciamo che parla anche delle insegnanti e che cerca di esprimere proprio questa volontà questa forza di ottenere non soltanto di esserci voglio dire non soltanto di avere l'ammirazione dei grandi uomini letterati ma di esistere e di avere diritti individuali e collettivi sanciti da leggi non perché queste siano risolutive ma perché solo così sarà possibile che non sia estemporaneo e momentaneo l'acquisizione di nuovi spazi e di nuove possibilità nella vita forse ho parlato anche troppo ma mi fermo qui e aspetto le vostre domande non so se era questo che volevate eh Simonetta grazie mille assolutamente sì insomma non voglio parlare per tutti però veramente interessantissimo bellissimo il tuo intervento grazie mille c'è anche ricchissimo di spunti immagino che ci saranno molti commenti domande che seguiranno io volevo chiederti inizio io rompo il ghiaccio e poi lascio la parola agli altri alcune contestazioni a Beatrice iniziano già all'altro grande all'altro grande evento che c'era stato nel 1865 a Firenze in occasione appunto del centenario di Dante di tutto delle celebrazioni e questa scrittrice Erminia fu affusinato appunto aveva scritto un poema anche lei una poesia intitolata Gemma Donati stesso discorso che appunto la letteratura aveva messo da parte la moglie di Dante celebrare questa muse ispiratrice che contestano appunto come dicevi tu poi nel tuo intervento più tardi all'esposizione Beatrice quindi ecco potresti ho trovato interessantissimo questo discorso sulla tensione tra questa generazione risorgimentale e la nuova generazione di donne quindi considereresti un pochino l'esposizione Beatrice una sorta di parentesi che chiude questo periodo e anche aspetta devi sei devi aprire il microfono e che inizia appunto subito dopo l'unità d'Italia tra forze clericali generazione risorgimentale laica oppure è molto più complicato ci sono molte più anche interferenze l'uno all'altro il 1890 è un momento in cui esplode questo attacco al positivismo complessivo voglio dire in cui le polemiche su antimaterial appunto contro il verismo contro il realismo contro il materialismo si moltiplicano ma in cui nello stesso tempo anche emergono posizioni che tendono non a negare antiche idealità ma a viverle e ad arricchirli a modularle direi in modo diverso non è che sono io ho qualche difficoltà queste sono sono cattoliche ma sono cattoliche conciliatoriste sono persone brave a mettersi contro la chiesa non è che siano propriamente quelle che sono a favore che vogliono fare il volume su Beatrice fanno parte di una elite di donne che diciamo non sono né beghine né né si possono dire decisamente clericali tant'è vero che dentro io non l'ho citata prima ci si trova Luisa Anzoletti che è una giovane modernista una nipote di Rosmini che diciamo si fa una delle conferenze fa una bella conferenza diciamo su temi marginali ma comunque fa una bella conferenza e si muove in quest'ottica le le poche di ambito repubblicano radicale più che radicale sono repubblicane e neosocialiste e come dire sono essenzialmente laiche risorgimentali ecco queste sottolineano con forza appunto questo simbolo di virtù che di virtù non solo propria ma ripeto di virtù generatrice di virtù ironicamente Carducci intitola il suo pezzo Beata Beatrix no ma insomma in realtà è la Beatrice Beatificante Beatificante della società italiana Beatificante perché è modello per le italiane ecco si scontrano queste modalità non c'è dubbio vedete un'altra dei personaggi mi vengono in mente ora che fa delle conferenze che ha grande lei ha un successo personale proprio è Carolina Invernizio Carolina Invernizio nel 1890 nel pubblica ben sette romanzi storico-sociali ecco la nera su quei romanzi ci faceva procioni anche giustamente perché dai che siamo belli però voglio dire c'è Carolina Invernizio che pubblica sette volumi sette romanzi di larghissimo smercio che hanno una circolazione enorme e che parlano di condizioni di vita magari inventate ma insomma non solo a Carolina Invernizio c'è delle che è maestra a Firenze in quel periodo ha delle tonalità di attenzione proprio anzi nella conferenza esalta la volontà di De Guvernatis di mettere anche operaie non solo artigiane ma operaie alle macchine in esposizione nel teatro fiorentino e quindi voglio dire le altre invece quelle che si negano e anche una delle pochissime che entra perché è troppo giovane e ha bisogno di farsi pubblicità che è Emma Ferruggia lei partecipa ma partecipa dicendo però qui proprio le più brave non ci sono ma che si sta dietro ancora a persone come potevano essere le scrittrici risorgimentali e qui ci vuole Bruno Sperani qui ci vuole Nera qui ci vuole la Serau lo dice certi premio non glielo danno ma insomma a me sembra già però è l'unica è l'unica è giovanissima se non mi sbaglio lei deve essere nata nel 67 cioè 23 anni e i versoconti dicono che sembrava una bambina perché si presenta per benino con le treccine insomma ha una diciamo fa un'esposizione battagliera di rottura come dire io sono venuta ma sono contro di voi e questo a me sembra molto molto importante perché nella risposta negativa di Nera nel no che dice Febea c'è dentro un'altra idea di femminilità molto più elitaria individuale di potenziamento del sé anni vivanti risponde picche vedete c'è un settore e un altro settore da questo punto di vista rispetto alla fuaffusinato siamo veramente in un mondo diverso cioè la ragione della fuaffusinato è legata a questa esaltazione di una maternità risorgimentale che non è che ce l'hanno queste Nera Febea eccetera non è anche la Febea che ha questa maternità infelice come dire insomma è fuori delle righe ma insomma nessuno ha queste caratteristiche la fuaffusinato dice come dire parla a vantaggio di Gemma Donati in nome di una maternità risorgimentale dopo invece le risorgimentali sono quelle che esaltano Beatrice ecco questo vorrei dire c'è qualcuna che riprende fuaffusinato Tommasina Guidi su dei giornali su dei periodici di Bologna che dice ma scrive proprio non è che lo dico io lasciatele a casa queste donne le donne devono essere custodite e non devono esporsi e per essere una che si oppone all'anticalia delle filo beatriciane voi capite che insomma si presenta Maluccio ci sono altre domande altri commenti allora vediamo Silvia sono due Silvie che hanno alzato la mano allo stesso momento vogliamo Silvia Tatti prima e poi Silvia Valicia sì allora mi è piaciuta molto questa relazione grazie Simonetta era un episodio che non conoscevo per nulla questo su Beatrice e la riflessione che mi viene da fare così in ordine generale anche dal mio punto di vista di studioso della letteratura è che esiste sicuramente intanto è interessante fare un parallelismo con la fortuna dantesca perché anche Dante nell'Ottocento agisce in un doppio secondo un doppio modello quello del Dante ideologo cattolico e quello poi invece del Dante laico patriota e diciamo che queste due questi due filoni poi si ricompongono soltanto dopo l'unità ma sono molto vivi in tutto il periodo della costruzione dell'Italia infatti Dante è proprio il poeta che emerge nel periodo della celebrazione e corrisponde anche a questa difficoltà di individuare una tipologia di italiano che però mi sembra molto più accentuata nel campo femminile perché lì non è soltanto uno scontro di tipo religioso è proprio un'idea di donna che evidentemente fa molta fatica a comporsi e che interferisce poi molto ecco quello che preme molto di più rispetto all'intento celebrativo che invece caratterizza la fortuna di Dante lì è proprio la repressione post-unitaria di tutto ciò che nel corso del risorgimento aveva dato spazio invece a una dimensione anticonformista della donna che invece viene chiaramente repressa quindi questo anche questo parallelismo fra le due fra i due fra le due fortune ma quello che è singolare anche dal mio punto di vista che in fondo Beatrice in questo caso ha una sua fortuna autonoma che invece prima non era mai accaduto e questo è molto significativo il fatto che comunque Beatrice diventi protagonista di un evento questa è una cosa molto molto significativa che comunque è un segnale di tempi diversi e poi un'altra riflessione sempre dando un contributo di ambito più letterario è che tu non conosco queste poesie ma faccio poca fatica a immaginare quanto siano brutte perché in genere questi cataloghi così queste occasioni celebrative generano una poesia di retorica che poi non è nemmeno più la retorica risorgimentale che aveva una sua passione invece la retorica solo celebrativa sarà sicuramente ripetitiva però ecco questo adesso senza entrare nel discorso la letteratura come documento per gli storici assolutamente io ovviamente difendo l'autonomia della poesia però ecco quante informazioni ci può dare proprio sulla realtà contemporanea un testo poetico per quanto brutto e proprio nella sua specificità di testo poetico perché in fondo attraverso la poesia si possono dire altre cose rispetto a quello che si può pubblicare in un giornale proprio nella sua specificità di testo poetico invece qualche contributo che aggiunge significati diversi rispetto a quello che i documenti storici possono dare e che farete ecco che è importante vedere poi anche nel confronto con gli altri testi comunque grazie pieno di spunti questo intervento Simonetta devi rispondere 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 allora io ho appena finito di scrivere una cosa sugli anni le donne negli anni 50 che cosa succede alle donne italiane dopo la fine che non è tanto ingloriosa ma che viene vissuta come ingloriosa della rivoluzione del 48 perché quello che tu dicevi sulla articolazione sulla anche costruzione pratica ed espressione di vite diverse femminili riguarda la fase prima del 1848 la fase dal 1848 al 1860 è una fase di chiusura e di reazione che non sa che non sa e che non riguarda le forze reazionari riguarda la reazione cioè riguarda tutti riguarda anche le forze democratiche riguarda tutti per quanto riguarda le donne le donne devono starsi a casa e devono istruirsi perché è bene se no col marito di cosa parla non possono educare i figli ma gli anni gli anni 50 sono anni tremendi che fanno capire come si può entrare poi nell'unità d'Italia con un panorama estente a configurarsi con una forza sua autonoma io credo che quindi quello che tu dicevi riguarda il primo punto vadano rifatte alcune riflessioni cronologiche cioè il 48 il 48 49 è una rivoluzione dalla rivoluzione come si esce e forse oggi certe cose le capiamo meglio io che della rivoluzione del 48 mi sono occupata tante volte come dire non avevo colto questo perché in fondo la rivoluzione italiana è grande fino al 49 d'estate insomma c'è Venezia c'è Roma c'è Firenze la Toscana insomma è qualcosa che regge ma viene elaborato il lutto come sconfitta totale bisogna cambiare totalmente strada le donne sono schiacciate in questo insomma vabbè questo è per dire che è una riflessione recente che mi interessa molto io penso che la svolta che vedremo venire fuori negli anni 60 e 70 matura negli anni 50 quando l'unico profilo emancipativo della donna italiana viene disegnandosi come donna educatrice e basta educatrice educatrice dei figli educatrice della società educatrice nelle scuole ma insomma educatrice e però in questa forma diciamo per quanto riguarda invece il secondo aspetto beh io penso che il volume quello brutto diciamo letterariamente cioè quello in onore di Beatrice è di grandissimo interesse perché la serialità di tutta una serie di affermazioni è di straordinaria importanza per capire che cosa sta succedendo ma anche che cosa si sta difendendo questo è un punto cruciale che idea diciamo della presenza ma dell'essere prima ancora della presenza dell'essere della donna si sta difendendo con un elemento specifico i versi hanno queste attitudini molto ripetitive le prose sono assai più nuove e variegate perché sono prose e versi in onore di e devo dire che le prose rivelano molto di più che mentre diciamo la poesia è interessante per la serialità delle affermazioni sulla capacità di riscatto che ha il provare un amore profondo e pensato non soltanto sentito capace di esprimersi in dedizione agli altri in una dedizione non passiva direi agli altri invece nelle prose c'è una tensione anche alla specificità della figura di Beatrice che è più forte alla sua concretezza al suo ruolo reale alla rilevanza comunque che il fatto che ci fosse segnalata con quella forza nella nella Divina Commedia importanza che ciò ha avuto per le donne italiane stesse per riflettersi in lei quindi io questo mi sono mi ero segnata anche tutta una serie di dati relativi proprio a questi scritti anche in prosa il più più importante di questi ve lo dico perché è una persona che forse avete ritrovato è quello di Malvina Frank una della generazione risorgimentali che nel 1872 aveva pubblicato un testo molto interessante mogli e mariti e che qui è come dire in Beatrice vede nella difesa di Beatrice vede la la modalità per attaccare il brutto materialismo per esaltare il vero bello e buono che è la triade di Augusto Conti appunto che dunque in qualche modo cerca di sottolineare come i veri buoni studi scritti letterari sono quelli che aiutano la morale sono quelli che seguono la morale vedete il mezzo perché io ho scritto politico culturale perché da questo punto di vista Malvina Frank è proprio una della vecchia generazione che aveva saputo prendere anche posizioni decisamente libere voglio dire e che però insomma di fronte a questa la letteratura è o è morale o non è ecco in questo si sente tutta l'ascendenza come dire risorgimentale della persona penso Silvia Valisa Silvia c'è un problema con il con l'audio hai per caso il telefono anche acceso con il collegamento perché c'è un interferenza non so se la sento solo io l'interferenza o la sentite anche voi io non sento lei si sentono fischi interferenze prova a mettere la cuffia forse altrimenti scrivi la vai vai mi sentite adesso adesso sì oh ok perfetto grazie mille Simonetta questa comunicazione interessantissima io arrivo avevo conosciuto giusto avevo guardato un pochino l'esposizione Beatrice perché mi ero occupata dell'esposizione mondiale di Chicago del 1893 in cui un comitato di donne locali crea un women's building quindi un edificio interamente dedicato ai lavori alle opere femminili e all'interno del women's building creano questa biblioteca women's building library che viene considerata oggi la prima biblioteca femminile prima biblioteca pubblica interamente dedicata ai libri delle donne e quindi potrei dire tanto ma ci sono tantissime connessioni con l'esposizione Beatrice ma una che io non ricordavo e che non conoscevo è il riferimento che hai dato tu tra gli altri al fatto che l'esposizione Beatrice avesse essa stessa un'esposizione di libri di scrittrici cioè un'esposizione al femminile e quindi mi chiedevo se potessi appunto ci sono talmente tanti spunti su cui potrei farti domande ma se potresti se insomma se c'è qualcosa cosa possiamo esplorare di più a livello di esposizione di libri e del talento della scrittura femminile in generale diciamo sulla scrittura femminile in generale si potrebbero dire tante cose ma lo che mi preme è che in realtà io questo purtroppo vado in fila che il comitato organizzatore dell'esposizione Beatrice aveva fatto una convenzione con la Biblioteca Nazionale di Firenze perché tutti i libri che venivano inviati dagli editori o dalle autrici all'esposizione venissero poi raccolti nella Biblioteca Nazionale di Firenze perché componessero il primo nucleo di una prima biblioteca femminile italiana quindi è proprio la cosa bellissimo in un volume che viene un terzo volume che viene pubblicato perché vengono pubblicate tante cose ora io vi ho detto l'essenziale dell'esposizione ma insomma viene pubblicato un volume con il catalogo delle opere e anche di parte perché si dice che alcuni sono andati persi li avranno rubati mi immagino visto che c'era buio e che non c'erano cataloghi temo che la sorte sia stata quella comunque il punto è che a questo quando ho letto questo io mi sono messa a cercarli in Biblioteca Nazionale e non sono riuscita a ottenere gli inventari del 1890 da cui forse si poteva vedere qualcosa certo è che un nucleo così determinato non c'è in Nazionale non c'è non si trova e invece sarebbe di notevole interesse devo dire di più che a queste manifestazioni dà un grande appoggio il direttore della Biblioteca Nazionale dell'epoca Chilovi che è un amico anche di Angelo De Gubernatis ma che comunque presenzia a tutte le iniziative che è un segnale interessante perché bisogna anche considerare che già quella data 1890 in Italia sono già entrate nonostante l'assenza di una chiara indicazione anzi indicazione contraria semmai nel Codice Civile sono entrate le prime bibliotecarie nelle biblioteche nazionali con funzioni dal 1884 quindi con funzioni secondarie ma allora questa cosa del libro che è un oggetto che è un parto ma che è anche una cosa da custodire per gli altri è molto forte in tutta la in tutta l'esposizione senza dubbio grazie altre domande magari allora intanto che qualcuno io volevo anche fare un altro commento cioè di come questa la rinuncia da parte di scrittrici come ad esempio la Serao all'esposizione nasce però anche sulla scia di tutta una querelle che era negli anni Ottanta sul significato o anche sul valore della scrittura femminile e sui modelli femminili soprattutto mi ricordo a metà anni Ottanta quando la Serao pubblica La virtù di Checchina ad esempio era entrata in una così uno scambio di articoli sul fanfulla della Domenica con alcuni critici appunto parlando sul quali sono i modelli femminili nella letteratura che caratterizzano una scrittura femminile e quella invece maschile quindi Francesca e Beatrice tutte e due come modelli fortissimi denunzio poi anche più tardi con la tragedia su Francesca e la Serao appunto entra in polemica fortissima anche su De Santis che aveva scritto quel bellissimo saggio su Francesca dicendo che la scrittura femminile deve avere un valore a sé stante che non dipenda appunto da queste figure queste muse ispiratrici che fondamentalmente rimangono però molto legate alla scrittura maschile quindi è un po' una sorta di tentativo anche di dare come dire un'autonomia un'autonomia un valore a sé stante io almeno lo vedo rifiuto a partecipare all'esposizione Beatrice oltre al fatto tutti i dettagli che hai dato tu interessantissimi e che non conoscevo ad esempio anche la rinuncia della regina Margherita eccetera rientra però anche proprio in un discorso già iniziato negli anni 80 di come dire segnare un territorio proprio di scrittura femminile che tagli che rompa un pochino questa tradizione delle muse tantesche non so cosa ne pensi Simonetta penso che quello che hai detto è verissimo e del resto queste sono tutte detto prima sono appunto dicevo Febea anni vivanti Neera sono tutte grandi figure autonomi anni vivanti un po' meno ma insomma comunque diciamo hanno una loro forza anche autonoma e di sicuro l'elemento che tu dicevi una scrittura che come dire non esalti le muse è un elemento importante di cui tener conto ma la Serrao non non si ritrae per questo perché lei aderisce entusiasta anzi dà consigli e dice che lei vorrebbe proprio anzi aveva scelto anche qua di che cosa occuparsi nelle lettere ad Angelo De Guvernatis e si ritira dopo la frattura tra De Guvernatis guardate è una frattura forte 15 anni dopo quando De Guvernatis in pratica chiede scusa a Carducci Carducci lo manda a quel paese non gli risponde neanche direttamente cioè è una frattura che è molto forte cioè la Serrao si ritira dopo la frattura con Carducci che non è proprio un segno d'autonomia e si ritrae perché in qualche modo le sembra che la partecipazione sia troppo ideologizzata lei partecipava non al volume non al volume su Beatrice lei aveva accettato di partecipare a una conferenza sono due cose un po' diverse poi ripeto vengono avvicinandosi perché tante si ritirano ma l'esposizione di De Guvernatis non è legata alle iniziatrici a Carlotta Ferrari da Lodi o alla Pozzoli no insomma è un'altra cosa ecco quindi da questo punto di vista a me sembra piuttosto la volontà di evitare una palestra che stava diventando di scontro perché contro l'esposizione scrive il Capitan Fracassa scrivono tutta una serie di giornali e periodici diciamo verso i quali Matilde Serrao ha una certa attenzione io penso che le due cose io penso che tu abbia ragione in generale io non sto dicendo che quelle sono migliori delle altre sto dicendo che è straordinario secondo me molto bello vedere tutte queste compresenze direi anche queste articolazioni all'interno di ciascuno dei due schieramenti che non sono affatto compatti che non sono affatto una cosa sola perché tra Emilia Mariani e una cattolicona come la Savi Lopez insomma c'è la sua differenza c'è la sua sensibilissima differenza sono due che fanno due conferenze e che guardano con favore all'iniziativa di De Gubernatis ma che si collocano lungo schieramenti diversi pur essendo a mio parere perché questo invece semmai è il punto tutte e due concordi nel ritenere che la letteratura deve essere moralizzatrice questo è un po' un punto importante deve essere moralizzatrice insomma questo non gli sarebbe mai piaciuto De Sanchez penso alla fine ok riappertemi allora io grazie mille veramente grazie Simonetta di questo bellissimo comunicazione intervento ti ringrazio di aver accettato l'invito ringrazio a tutti anche di aver partecipato all'incontro e vi ringrazio grazie a tutti voi volevo anche piacere gli interessi è la cosa più bella che abbiamo e se dobbiamo farlo così non si fa così ma sembra che funzionerebbe che funzionerebbe anche bene quindi allora vi do vi invito a partecipare al prossimo incontro che è venerdì prossimo vi ho già mandato a tutti il contenuto insomma i vari interventi in pdf ognuno avrà modo di parlare per 5 minuti poi lasceremo spazio al dibattito come oggi e la prossima volta parleranno Ernesto Livorni Carmen Belmonte Deborah Bellinzani Sara Boezio Giuseppe Gazzola e Gaetana Marrone Puglia nella sessione dal titolo appunto Visual and Material Imaginations quindi spero che riuscirete tutti ad essere presenti buona settimana a tutti e ci vediamo venerdì prossimo stessa ora e stesso link e Zumba arrivederci a tutti buona giornata grazie grazie arrivederci grazie grazie grazie